Carissimi amici ed amiche, bentrovati sul canale. Quest'oggi vogliamo anche fare un aggiornamento e una precisazione, seppur molto breve, sul caso della piccola cata. Ieri si è parlato molto sui giornali di altre piste. Credo che però voler prestare l'attenzione su altre piste non sia qualcosa di molto significativo. Si è parlato di una persona che o era capitato lì per caso e non può essere perché quella era in un ambiente altamente monitorato dalla criminalità, la piste del cosiddetto pedofilo. Ma è una piste a cui io poco credo perché se di pedofilo si dovesse parlare doveva essere sempre a loro un ospite di questo exote, l'astor, dove praticamente abitava. Quindi è in sé già un'ipotesi poco credibile perché o doveva risultare che fosse andato via dalla struttura o si dovrebbe pensare che aveva portato la bambina, ne aveva abusato e poi era ritornata alla struttura come se niente fosse. Non è un'ipotesi credibile. Le persone estranee non sono entrate in quella struttura come si evince anche dall'esame delle telecamere e quindi sicuramente non può essere una persona che ha preso la bambina che non avesse a che fare con quella struttura stessa. E quindi questa ipotesi io non la colgo, sicuramente non gli do nemmeno un briciolo di possibilità. Tanto è vero che sono stati verificati anche i precedenti penali di tutti gli abitanti di questo ex hotel per vedere se qualcuno di loro avesse nel curriculum delinquenziale anche dei precedenti penaliati sessuali in generale. Non è emerso nulla di importante. Anche se lo si è fatto con quell'elenco ufficiale, con quello che si è riuscito a sapere, capirete bene che non c'era e non c'è un elenco completo degli abitanti abusivi di questa struttura, alcuni erano anche isregolari, ci poteva essere anche qualche ospite occasionale che potrebbe aver fatto perdere le tracce, però nulla avviene per caso. Quindi questi che comandano, che comandavano questi clan come questo fantomatico Carlos non potevano non sapere, ecco. Nessuno parla, nessuno parla evidentemente per paura di ritorsione, per paura per l'attaccamento alla propria vita. Quindi si è cercato di allargare le indagini acquisendo addirittura tutte le telecamere della città, 1.400 telecamere messe per il progetto Firenze Sicura, un lavoro in mane. Però come tutti i lavori in mani, insomma, si allarga certamente il disagio, ma rischia di essere un lavoro inutile, a meno che non si va proprio a sbattere nella visualizzazione della bambina, ma è poco credibile. Resta il fatto che quel pomeriggio, quel sabato, 10, comunque c'è un irresponsabile ritardo nelle ricerche, nelle indagini, nell'allarme lanciato, comunque la prima telefonata non troppo nemmeno allarmata alle 18.41 e poi la denuncia di scomparsa alle 20.30. Quindi si può dire che si brancola nel buio, ahimè, e gli investigatori credono non abbiano proprio la minima idea di dove cercare, nonostante si siano fatte ricerche sui tabulati telefonici di chi aggangiava quella zona. Se ne è parlato oggi anche in tv. Però ci sono, vedete, dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, dei genitori, dello zio, soprattutto questa figura dello zio che doveva essere colui che teneva a bada e che controllava la piccola, ma che secondo me non controllava proprio niente. Può essere pure che qualcuno, sempre all'interno, abbia dato, abbia venduto questa bambina e fatta passare per via Montevarchi. Perché non è credibile un rapimento per riscatto. Riscatto di cosa? Cosa potevano dare? Qualche miliardo di euro? Una ritorsione? Una ritorsione no, perché non sembra che fossero avvenuti degli episodi così eclatanti da portare addirittura alla soppressione o a prendere una bambina. E quindi non si hanno notizie né spiegazioni. Qualcuno dice no, ma se l'hanno presa contro la sua volontà la bambina avrebbe gridato perché era sveglia. Ma dobbiamo vedere la dinamica. Una bimba grida quando ha la possibilità di gridare. Le viene messa una mano sulla bocca oppure ci sono queste sostanze che fanno perdere i sensi. Una volta così poi la bambina può essere caricata attraverso quel passaggio che abbiamo visto in via Montevarchi. Quindi non si sa che dire. Vedete, si brancola nel buio però questa pista del pedofilo che è stata detta non trova, secondo me, alcun tipo di giustificazione e la verità sta lì dentro è una verità che sicuramente sanno in qualche modo i genitori e qualcun altro sicuramente sa e che magari non rivelano ancora in attesa o con la speranza che la bambina sia ancora in vita. Voglio credere questo voglio sperare questo ma non durerà ancora a lungo. grazie amici miei amiche mie un abbraccio a tutti quanti voi e a presto condividete il video un abbraccio buona giornata grazie a tutti grazie a tutti